giorgia zannoni è un trascorso qua novara meraviglioso con la champions ora sei a roma com'è questa squadra soprattutto avete fatto fronte a delle difficoltà oggettive del roster però vi state esprimendo comunque molto bene si dai come detto tu è difficile in questo momento perché non abbiamo cambi stiamo giocando con claudia in posto 4 che comunque sta facendo molto bene il suo però facciamo fatica e da un lato forse è meglio che sia capitato adesso all'inizio poi all'inizio avevamo tre partite difficilissime che magari anche fossimo stati al completo non non sarebbe cambiato il risultato quindi dobbiamo cercare di resettare questa partita cercare di affrontare nel migliore dei modi questo periodo un po negativo da questo punto di vista e andare oltre che ricordi hai qua a novara un tuo pensiero vabbè io ogni volta che che entro qua ci sono anche sotto nel c'è un tappeto con tutto quello che è stato vinto io dico io c'ero io c'ero io c'ero quindi per me casa ed è sempre bello tornare qua grazie Giorgia e buon campionato ciao ciao